Ciao a tutte ragazze, oggi non mi vedrete nella solita postazione ma mi vedrete solo le mani perché voglio farvi vedere la box che ho ricevuto di ottobre e iniziamo subito facendovi vedere il primo brochure che è della Loaker ed è un buono sconto da 1 euro poi le spiegazioni con i prodotti e delle ricettine sfiziose come il mese e poi la novità di questo mese era trovare i punti per poi ricevere la box in omaggio arrivando ai 100 punti purtroppo non ho trovato nulla vi faccio vedere i prodotti i primi prodotti che vi faccio vedere sono questi Loaker che sono questi al gusto napoletano che è il gusto famoso della Loaker con il wafer al centro e questo al cioccolato fondente e tutte e due hanno un prezzo di 1,39 euro andiamo avanti con questi biscotti che sono 100% vegetali senza glutine e sono della natura e sono novellini con gocce di cioccolato senza olio di palma ed hanno un costo di 4,10 euro poi troviamo le tic tac che sono all'anice stellato e alla liquirizia ed hanno un costo di 1,35 euro e sono questi che sinceramente io non li ho mai assaggiati sono pronti in tre minuti quindi sicuramente questi li assaggia la mia sorella che li mangia questi hanno un costo di 2,99 euro andiamo avanti con la salsa di rica che è senza olio è di prodotto 100% italiano ed ha un costo di 1,49 euro panna senza lattosio da montare ed è di 200 ml ed è senza lattosio ed ha un costo di 1,30 euro andiamo avanti con questa aranciata rossa bio del lato marchio ed ha un costo di 1,80 euro e sono arance rosse di Sicilia il dietro è che è 0 calorie 0 aspartame 0 glutine e questo è ideale per addolcire appunto le aranciate il caffè la frutta ed è un liquido dolcificante ed ha un costo di 2,90 euro con i cornetti salati della molno bianco con sesamo e senza olio di palma e con lievito madre e questi hanno un costo di 2,29 euro e sono salati questi non li ho assaggiati e li voglio assaggiare devono essere buonissimi altro prodotto sono questi sfizi del panificio Giorzi e sono sfizi appunto al fatto biologici e sono mini grissini con olio extravergine d'oliva bio hanno un costo di 2,35 euro questo che è molto interessante secondo me mi ispira molto e sono questi budini al cioccolato fondente dell'alpro e sono di soia e sono molto interessanti sono 4 e sono di 500 grammi ciascuno e siccome a me piace molto la cioccolata fondente quindi questi li proverò sicuramente ed hanno un costo di 3,19 euro e come ultimo prodotto questo l'avevo già assaggiato nella box di agosto che vi lascio qua sopra nella i di informazioni il video sono della marca appoggio del farro ed è farro soffiato al naturale ed è stra buono buonissimo io l'ho assaggiato al naturale ed è davvero buonissimo veramente è stra buono io non avevo messaggiato non avevo messaggiato il farro soffiato con questo è tutto questo era quello che ho trovato dentro la box di ottobre come sempre vi lascio qua sotto nell'info box ogni informazione se il video vi è piaciuto lasciate un like seguitemi su Instagram iscrivetevi al canale e alla prossima e alla prossima